Un 2022 con meno adozioni al canile Empa Valdarno del Forestello, che ha fatto aumentare il numero di amici a quattro zampe presenti nella struttura, che è tra le quattro riconosciute dalla regione. Siamo stati al canile per fare un bilancio dell'anno ormai concluso. Sono stato di grande soddisfazione perché abbiamo adottato cani vecchi, siamo riusciti a dare via cani che magari era dieci anni che erano in canile, quindi è stato molto bello. Circa una sessantina, il che ha fatto aumentare un po' la presenza dei cani in canile, di circa 10-14 unità. Molti gli interventi effettuati dai volontari e dai dipendenti del canile sulle strade nel 2022. Abbiamo fatto tanti interventi perché ci hanno chiamato molte persone per dei cani trovati vaganti per strada, circa 260. Fortunatamente, grazie alla microchippatura o a Facebook anche, perché quando troviamo cani pur senza microchip, ma ben tenuti, li pubblichiamo e riusciamo a ritrovare i proprietari. Quindi li abbiamo restituiti quasi tutti, solo 80 sono entrati in canile. Il canile del Forestello, nel comune di Cavriglia, pratica un iter di adozione dei cani da parte dei privati, che vogliono portare a casa un nuovo componente della famiglia, che è consapevole e senza rischio di ripensamento. Non viene una persona e gli diamo i cani. Facciamo un colloquio con le persone, cerchiamo di capire che tipo di cane giusto per la situazione dove dovranno andare. E sulla base della conoscenza dei nostri cani, gli proponiamo i cani secondo noi giusti. È un percorso un pochino più lento, però questo ci garantisce di non avere mai rientri dalle adozioni, perché le adozioni sono molto curate. Intanto Empa continua la sua battaglia contro i botti di Capodanno, plaude ai comuni che li vietano e condanna chi decide di scoppiarli. È inammissibile dire di amare gli animali e poi scoppiare i botti. Forse a tante persone non è chiaro, ma per gli animali sono veramente un trauma terribile. Non capiscano cosa succede. Ci sono cani che muoiono di infarto per i botti. Allora non possiamo dire di amare gli animali se non rispettiamo questo. Oltretutto inquinano, non servono a niente, ma cosa li facciamo a fare? Intanto nel canile in questi giorni sono presenti sette cuccioli pronti per essere adottati. Una scelta consapevole, gratuita e di responsabilità, che però può cambiare la vita in positivo a chi li vorrà accogliere. Gli ultimi arrivati che hanno alzato la media sono questi meravigliosi cuccioli, ma che contiamo se ne vadano presto, presto, veloci, veloci. Questi sono cuccioli di meticcio cane cecoslovacco, quindi verranno una taglia medio-grande. Sono molto bravi, molto socializzati già, si possano vedere. Per le adozioni di amici a quattro zampe basterà contattare Empa Valdarno o recarsi nei giorni di apertura direttamente al canile.